la tomba di pasquale sanislao mancini necessiterebbe di un restauro manca il busto in bronzo c'è una corona in bronzo offerta dalla camera dei deputati a pasquale sanislao mancini la camera dei deputati il 30 gennaio 1889 qui giacciono ed avranno un monumento pasquale sanislao mancini morto nella regia di capodimonte il 26 dicembre 1888 e la sua sposa laura beatrice oliva morti in firenze il 17 luglio 1899 dopo 20 anni ricongiunti per volere pietoso del comune dei figli siano queste jolly ispiratrici di patrio amore e di operoso sapere di arti in peritura